Maria Adriana Prolo, la signorina del cinematografo di Stefano Bessoni, realizzato insieme al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Stefano Bessoni, che conosciamo essere regista, essere illustratore, autore di tanti libri e insegnante di animazione, è l'autore di questa biografia di Maria Adriana Prolo, che è la fondatrice del Museo del Cinema di Torino. Il testo è in inglese e in italiano, arricchito dalle illustrazioni di Stefano, che devo dire sono particolarmente sentite in questa biografia, è un testo che racconta la vita di questa donna straordinaria, vissuta a cavallo dello schecolo scorso, che ha goduto di essere nata di una famiglia di ampie vedute, ha potuto studiare e presto ha scoperto la sua passione per il Cimene. Naturalmente la sua vita si intreccia con la vita della storia dell'epoca, la storia della città di Torino, ma soprattutto ci testimoni di una volontà ferrea, di una volontà incorruttibile, ha voluto assolutamente realizzare questo progetto, il progetto appunto del museo e ci è riuscita. Pagine dopo pagina impariamo a conoscerla meglio e a apprezzarla in tutte le sue qualità. Quindi Stefano Bessoni, Maria Adriana Prolo, la signorina del cinematografo. Grazie.